Festa della mamma, domenica è l'associazione Il Centro Aiuto per la Vita, non si tira indietro, organizza una festa, dove? Una festa in piazza, scendiamo in piazza con tutte le mamme, abbiamo la gioia di dedicare in questo mese così importante Mariano una giornata, una domenica, proprio per le mamme, neomamme, mamme un poco più mature e quindi le vogliamo tutte presenti in piazza, proprio per testimoniare l'importanza, la forza e la figura che accoglie e che dona la vita. Cosa avete organizzato? Ma ci saranno dei giochi, soprattutto per i bambini e poi delle sorprese, diciamo così, delle polizze a sorteggio dei giochi per i bambini e sarà nominata una mamma, diciamo così come mamma esemplare, una mamma dell'anno, giusto per dare un premio a una mamma che ha avuto una storia un po' particolare di cui siamo a conoscenza. Sciacca Pulita domani in piazza insieme al Centro Aiuto per la Vita, un'iniziativa alla quale partecipate nell'ottica poi di contribuire alla riqualificazione della città? Sì, Sciacca Pulita è un'associazione di volontariato che praticamente vuole dare tanto alla città, è sempre impegnata nel sociale e vuole appoggiare e condividere questo progetto della CAV che è appunto il dono della vita, che sono le mamme che donano la vita, noi la vogliamo portare anche con le stesse radici da piantare nella città e quindi abbellire la città e donare questa bellezza. Tante le iniziative che vi vedono protagonisti, questa di domenica e poi una successiva piantumazione di queste piante ma soprattutto Sciacca Pulita lavora con i volontari per pulire la città. Ci sono nuove iniziative in programma? Allora sì, la certezza è che il prossimo 4 giugno che è domenica faremo una nostra iniziativa, dove ancora non lo so, ma quello è sicuro. Ci sono tanti punti della città che hanno bisogno di un intervento? Sì, punti sono tantissimi e soprattutto è importante liberare la plastica dal mare, che è veramente nociva per il mondo marino. L'invito intanto? Allora l'invito intanto per domenica 14 per la festa della mamma, tutti gioiosi, tutti insomma portati ai bambini che sarà un bellissimo momento da condividere insieme, di gioia e di festa.